Palazzo Rasini, Cavenago di Brianza Palazzo Rasini venne iniziato intorno al 1580 da Marcantonio Rasini, conte di Cavenago, per ampliare una casa da nobile. Fu costruito un fabbricato su due piani preceduto da una vasta corte d'onore, arricchita da due porticati. L'ingresso fu rivolto a rest e la nuova facciata, munita di portale e di torri, costituì un lato della piazza principale di Cavenago. Nel 600 fu inserito un oratorio e alla fine del 700 fu aggiunto a una piccola torre dell'orologio. Abbandonato e poi diventato sede del municipio, negli anni 90 del 900 il palazzo è stato restaurato e la facciata sulla piazza completamente rifatta. L'aspetto più interessante del palazzo sono i numerosi affreschi distribuiti nelle sue sale. Nella Sala delle Fontane e nella Sala di Giove sono presenti paesaggi e figure fantastiche affrescati nel 1620 nello stile di Procaccini. Intorno al 1750 fu splendidamente decorato il Salone di Apollo, con al centro il carro del sole di Mattia Bortoloni, collaboratore di Tiepolo, e nelle sue pareti decorazioni a stucco in stile rococò. La volta della Sala da Pranzo presenta un ciclo di affreschi, con le stagioni sottoposte al giudizio del tempo, opera di Domenico Pozzi. Infine, nella Galleria del Piano Nobile, i restauri hanno messo in luce affreschi con musicisti e personaggi affacciati, opera seicentesca di Cavagna e Montalto.